...el spettacolo del grande calcio, divice un rival, salta il difensore ed ecco il gol! Azione perfetta, pressing da manuale, la recuperata e tanti saluti al portiere. Ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede. È un minzon, ha l'occasione per riaprire il match, avvio di match scoppiettante, non siamo nemmeno a metà primo tempo e entrambe le squadre hanno già trovato il gol. Pareggiano i conti con questo gol, lo vede, attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio, non trattiene, occhio alla possibilità. Tiene palla in attesa che si creino gli spazi, si vola Cantesu, francamente non so cosa volesse fare. Emre Can, tiro l'espinto ma la palla è ancora in gioco. Ottimo recuperarsi sulla traiettoria giusta. È tutto solo? Attenzione la palla è lì! Non le preferiscono aspettare il momento giusto. C'è spazio in avanti a sé. Palla in attesa. Ecco Delta. Attenzione tutto solo! L'ha appoggiata nella porta completamente vuota. Attenzione perché è pericoloso. Accione pericolosa. Palla respinta dal difensore. Bravo qui. Palla gol questa. È la sua terza rete oggi. Attrick. Tre gol! Per confermare il suo stato di... Hanno spazio per andare in contropiede. Con questa palla e punta la porta. Palla di un soffio sopra la traversa. Preggevole il tocco sotto. Conclusione murata. Il tocco per son. Preferiscono ragionare. Qua c'è il pallone giusto. E c'è il gol! Palla in rete! E con questo... Il difensore. Il difensore poco attento. Grande intervento del portiere. Vale come un gol. L'avevo vista dentro, Piero. E ti dico la verità. Palla da più al centro dell'area. Qui il difensore ha delle responsabilità. Sadio Manet! Trova il gol! Non poteva sbagliare da lì. Non ha fallito. ha spazio per andare. Palla interessante. Palla ribattuta ma non è finita. E c'è il gol! Attenzione! Aspetta di assolvere il portiere, Piero. Poteva fare davvero poco su questo... Si andrà avanti per un altro minuto. Qui a bordo campo tutti pensavano avrebbe concesso qualcosina di più, francamente. Così può bastare. Importante vittoria. Fuori casa dunque. Vittoria sudata, eh. a dimostrazione. A dimostrazione. Grazie a tutti.